MyPlanner è veramente My. Compilando un veloce form di registrazione, puoi avere accesso alla tua area personale, dove puoi salvare le tue scelte, annotare idee, creare progetti e condividere il tutto con il tuo team in tempo reale. Attraverso questa semplice funzione puoi salvare nella tua area personale i contenuti che più ti interessano e recuperarli in ogni momento. In MySoluzioni potrai salvare tutte le soluzioni che desideri. In MyCalc potrai salvare le simulazioni e i risultati dei calcoli termici effettuati. I progetti sono complessi e articolati. Chi meglio di te conosce questa verità? Occorre fare ordine. La sezione MyProgetti ti permette di organizzare il materiale all'interno di cartelle dedicate che puoi rinominare a tuo piacimento. Puoi creare cartelle tematiche per soluzioni di tuo interesse, cartelle per simulazioni di calcolo, oppure delle cartelle progetto, in cui inserire le soluzioni e i calcoli che ti interessa utilizzare in uno specifico progetto. Hai appena avuto un lampo di genio? Non fartelo scappare. Aggiungi subito una nota per ricordartene in futuro. Puoi utilizzare questa funzione sia sui singoli elementi, sia sulle cartelle progetto. Può anche non essere una nota, ma un commento. Sfrutta questo spazio per commenti che ti interessa condividere con il tuo team. La tua area personale ti sta stretta? Allargalo. Condividi le soluzioni che preferisci con il tuo team di progetto. Questo ti darà la possibilità di avere un confronto diretto e una collaborazione continua e senza limiti. Cosa aspetti? Clicca e inizia subito a progettare.